caro Gohan non correre caro Gohan si lo so che vuoi andare dello zio oggi è sabato lo zio farà tante pizze buone tutte per te Gohan farà la pizza capricciosa la margherita farà altre 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 buone pizze solo per te Gohan bravo Gohan bravo guarda guarda la coda guarda sempre un pentolgo andiamo dallo zio pasquale Gohan buon pomeriggio e buonasera a tutti i miei cari amici amiche a voi che ci seguite buonasera a tutti da Giacomo e da Gohan come vedete qui a Bari è nuvoloso e ha piovuto e piove ci troviamo qua a Bari al quartiere libertà la città di Gohan e la città di Giacomo e questa che vedete di fronte a noi è la chiesa del Santissimo Redentore di Bari e questa è la piazzetta del Redentore la piccola piazza costruita da poco e diciamo quasi quasi vuota ci stiamo avvicinando alla pizzeria dello zio pasquale che si trova nella piazzetta del Redentore dove Gohan è affezionatissima ecco ci avviciniamo pieno pieno questi sono i mezzi che ha lo zio pasquale appetitosa dove la pizza e Gohan è entrato nella pizzeria dello zio pasquale ecco qua vi auguro una buona sera a tutti dalla vostra carissima amica Giacomo e dal vostro carissimo amico Gohan buon pomeriggio e buona sera a tutti